Compriamo più a retino, il nostro sottotitolo è io compro a retino, ma non per campanilismo, ma perché è una necessità. Salviamo le nostre aziende, teniamo su queste saracinesche, non le vogliamo vedere chiuse né ora né nel 2021. Per fare ciò bisogna scegliere intelligentemente e coscientemente. Questo è Arezzon, un progetto gratuito e solidale nato con l'intento di aiutare le attività economiche a retine che stanno affrontando un periodo particolarmente difficile a causa della pandemia. Arezzon è un portale totalmente gratuito per tutti, sia per il privato ma soprattutto per le attività che si iscriveranno, dove possono mettere in una vetrina, ripeto, gratuita tutta la loro proposta, le loro idee, il loro regalo, i loro articoli, le loro convenzioni, potranno dire che la consegna è gratuita, tutto quello che vogliono. Almeno sappiamo che l'attività di Arezzo vende a degli aretini e magari anche a qualcuno di fuori che quello non guasta, ma soprattutto permettiamo a loro di restare aperti, di lavorare anche nei momenti di saracinesca chiusa. Un progetto dunque per facilitare l'incontro tra commercianti e clienti grazie ad una vera e propria vetrina digitale. In questa fase siamo presenti con una pagina Facebook dedicata, Arezzon, io compro aretino, quindi sarà possibile semplicemente seguirci con un mi piace, ma le aziende, quindi tutti i commercianti e gli artigiani che desiderano partecipare gratuitamente al progetto potranno semplicemente mandare una mail a infochiocciolaarezzon.it con un massimo di 10 foto e magari una proposta per il Natale, perché in questa prima fase garantiamo a tutti almeno una pubblicazione propedeutica al Natale. Ovviamente abbiamo in serbo tante cose perché il progetto è molto ampio, a breve usciremo anche con il portale che garantiamo fin da adesso sarà gratuito ancora. Tra i promotori del progetto anche Morena Sciadini, già ideatrice del gruppo Facebook, un aiuto per te, nato durante il primo lockdown per dare aiuto a tutte le attività che consegnano a domicilio. Sono stata la prima a crederci e adesso ci credo ancora di più, anche perché pensiamo molto più in grande, assolutamente. Quindi invito tutti i commercianti a fare l'iscrizione completamente gratuita e andare avanti con noi perché credo che questo sarà un grande passo per la nostra città e per i nostri commercianti.